Ecco siamo su Radio Giziale, siamo con Massimo Sette, come mai questo avvenuto in Bergio? L'avvenuto in Bergio si fa soprattutto per i nostri amici che vivono all'estero e poi grazie a voi che ci fate pubblicità nelle grandi radio, quindi è doveroso poi dopo venirci, no? Non solo far sentire, farci anche vedere e quindi siamo qui a Radio Italia. Ecco, e cosa ti aspetti dal pubblico Berga? Ma quello che mi aspetto in tutto il mondo, quando noi giriamo avete un cuore grande, quindi il nostro pubblico ormai ci aspetta a braccio aperto perché portiamo musica napoletana, quella siciliana che ormai si è obbligato, quindi siamo dei vostri, quindi quando voi ci chiamate noi vi portiamo alla vostra terra qui in Bergio. Ecco, noi ringraziamo Massimo Sette, che è venuto su Radio Italia e buon concerto per stasera. Grazie a voi, grazie a voi, grazie. Ciao.